Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Bruxelles noi siamo insieme al mio amico Marco e faremo un paio di sopravvivenze di football Vavamo! Moriii sono più forte di una stupida ignorante rosa curati curati eh si del nuovo oggetto di investa non mi segni non mi segni Marco passa Marco passa lo so ci ho visto che non mi spara non mi tira mi ha sfiorato il bambino mi ha sfiorato che schifo grazie torni dietro per me come che fa che Marco è rimasto con 590 di vita vai chi l'ha la palla vai passa dai si darti giallo in Marco vai no vabbè vai pocio vai pocio vai pocio vai pocio vai pocio vai 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 non è il babbo bocciano non voleva curarmi lancio e curati lancio e curati parata passalo 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 vai marco diventa tutta la tua vita inutile che oggi si sta sviluppando nooo era possibile farlo era possibile nooo era possibile nooo nooo la vita ho sbagliato che non ho credito certo ma io so cioè di prima credo manco anche leon io te l'ho detto con i video a scuola lanciami lanciami amore reo non con questo marriage tu mi chiammi distrutto Sì, sento in ultima Marco, vai! ma non mi ha guardato la nostra cassa nooo ma sti donna ma dov'è? ma è Bob il nostro amico che non dita no no possiamo vincere possiamo vincere no non possiamo vincere non è vero mai o mai no non veniva il progetto vieni il progetto a Marco il progetto troppo bello dai 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 non li fa non li dovete fare avvicinare Marco stanno saltando per la pedana il trampolino che dovevo ah ce l'avevamo fatto ah meno di buonazzo stavolta 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 eeeh guardino ok perfetto che ti stai aprendo le case no 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 non ti chiudo un'altra vabbè vai ok 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 hai immagino ma aiuto 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 ma cosa ti spiei ma che ti spiei io non sono un bombardino non posso fare molto sai stupidi no 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 allora te lo fai per gli alluviti no e l'abbiamo aperto ma vai ammazzatelo marco ammazzatelo no mi capisce dai marco usa la super marco usa la super e ci vanno così la vittoria oggi a questi tempi aspetta marco che facciamo un'altra cosa dove è oh c'è pure un salvo online salvo beffa non è carta l'altro eh si sta giocando mi dice a beffa tra poco finisce il video eh dai mi piace già che è ora di concluderlo il video no 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 anzi perché siamo arrivati a 20 minuti di registrazione no no siamo a 10 minuti tra poco a 10 minuti eh si vabbè facciamo uccina solo e basta come? facciamo uccina sopravvivenza squadre così e poi finiamo il video vabbè cioè concludiamo raga per per oggi questo è l'ultima partita per conclusione chi finge? chi ucciderò? marco? oppure marco mi ucciderò oppure lo ucciderò io? che la odio la bimbo stagliare il libro cosa so? perché stiamo dietro una cinta sì ok 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 lo so ti hanno eliminato no 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 non mi hanno eliminato sì ti hanno eliminato ti hanno eliminato ok da uno ok 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 quando lo ho visto ok quando lo ho visto ok cominci a perder vita ehi fuoco che bella l'abilità stellare di brock no 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 come si chiama? bravo eh allora dopo 10 secondi 5 secondi no 10 secondi cominci a prendere lì la parte lì non ho visto niente vabbè ragazzi io direi che possiamo concludere qui eeeh vabbè raga aspetta finiamo sta aspetta mazzo sta stupida no grandi ok raga concludiamo con il video eeeh per oggi ci fermiamo alla prossima ciao ciao e un saluto anche da Marco ciao 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 Grazie a tutti